Il legislatore nel nuovo contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale ha introdotto un nuovo driver, ovvero la voce che risponde al nuovo reato extrafiscale di autoriciclaggio, un argomento che necessita di una approfondita analisi, richiesta ad uno dei massimi esperti di fiscalità internazionale, l'avvocato professione Fabio Ciani, tributarista a Milano. Il legislatore nel nuovo contrasto all'evasione fiscale sia nazionale che internazionale ha introdotto questo nuovo driver, ovvero l'introduzione di questo reato extrafiscale di autoriciclaggio. Chiunque mette le mani sulle evasioni fiscali, sul frutto, sul vantaggio delle evasioni fiscali, quindi non solo i terzi che riciclavano fino a ieri ma anche l'autore del reato fiscale, con cui potrà fare evidentemente realizzare questa nuova fattispecie delittuosa di reato di autoriciclaggio che è molto più grave del reato quindi fiscale. Quindi noi abbiamo un cumulo di responsabilità appunto fiscali, extrafiscali e se poi noi allarghiamo estendiamo l'orizzonte anche alle società, alle evasioni endosocietarie, abbiamo anche una deriva importante sulla 231, sulla responsabilità amministrativa delle società che hanno tratto vantaggio dalle condotte delutuose appunto di evasioni fiscali degli organi apicali. Cosa voglio dire? Che si apre, si genera una verticale pericolosa sulle evasioni fiscali endosocietarie da parte, ripeto, dei legali rappresentanti di queste società che risponderanno appunto del reato fiscale, del verosimile reato di autoriciclaggio sugli utilizzi endosocietari di elevazione fiscale, vedi pagamenti nero di fornitori e clienti e poi c'è una 231 ovvero una responsabilità amministrativa delle società sulle condotte delutuose ovvero sui vantaggi revenienti da queste condotte delutuose. Fino a ieri il reato in qualche modo di autoriciclaggio non era in qualche modo fiscalmente ovvero penalmente rilevante nella misura in cui esisteva una clausa di salvaguardia e una clausa di riserva per cui l'autore del reato fiscale non rispondeva mai del reato postumo di utilizzo, di spostamento e di occultamento delle proprie evasioni. Entrando più nello specifico, il riferimento è alla depenalizzazione dell'evasione interpretativa, dell'evasione da riscossione e alle nuove soglie di rilevanza penale? Questo nuovo scenario in qualche modo extrafiscale di nuova criminalizzazione appunto dell'evasione, del suo scorrimento, del suo deflusso, dobbiamo considerare che alcune fattispecie, alcune spattispecie di infedeltà dichiarativa non sono rilevanti quindi penalmente. Noi pensiamo all'evasione interpretativa appunto ovvero all'imposto abusato, all'imposto elusa la cui movimentazione in qualche modo non potrà mai generare un reato di autoriciclaggio nella misura in cui non rileva più penalmente. Difatti nella nuova definizione unificata di abuso e di elusione di imposta questa è stata svalutata ovvero degrada sul piano e sul profilo delle sanzioni quindi amministrative. Mai un reato fiscale sull'evasione in qualche modo quindi interpretativa. Quindi tutte le condotte e comportamenti che sono riconducibili al perimetro dell'evasione interpretativa in qualche modo non potranno mai originare in qualche modo quindi questa verticale di cui si discuteva poco anzi. Lo stesso dicasi anche per l'evasione da riscossione con l'inalzamento del sogno di rilevanza penale di queste condotte in qualche modo di appropriazione di somme ovvero di tasse da parte pensiamo all'IVA autoliquidata non versata oppure anche alle ritenute non versate. Ovviamente su queste somme che ovviamente che non raggiungono dei limiti dimensionali importanti mai ci potrà essere una deriva extrafiscale ovvero un reato di autoriciclaggio ovvero anche di riciclaggio una misura in cui la fattispecie podromica non costituisce ovviamente non ha rilevanza quindi penale. Sull'evasione internazionale voi pensate a stabilizzazioni occulte oppure alle contestazioni da esterovestizione ecco la fattispecie è una fattispecie di evasione non di elusione ecco quindi su queste evasioni internazionali che riguardano i nostri non residenti ovviamente si apre uno scenario extrafiscale ovvero di autoriciclaggio di riciclaggio ovviamente anche di 2-3-1. Cosa voglio dire? Noi dobbiamo isolare e qualificare tutti i fenomeni fiscali e distinguere ovviamente quei fenomeni in qualche modo che sono riallocati dal nostro legislatore nell'area delle sanzioni amministrative dei profili sanzionatori dei soli profili sanzionatori amministrativi da quelli invece che rilevano anche in qualche modo sul piano penale. Ecco la distinzione che si faceva a poc'anzi fra un'evasione interpretativa e la vera evasione. Allo stesso dicasi per le interposizioni fittizie è una fattispecie quindi di evasione quindi tutte le condorse che sono riconducibili alle interposizioni fittizie ricadono nel nuovo reato di autoriciclaggio di 2-3-1. Il transfer pricing e chiudo sulle tematiche sullo scenario internazionale è una fattispecie nonostante un atteggiamento fruttante della gesprudenza di legittimità ma è una clausola anti-evasiva e dovrebbe essere in qualche modo criminalizzata quindi sia sul piano penale ovviamente con gli scenari di cui si diceva anche sul profilo dell'autoriciclaggio e del riciclaggio. Le nuove cause di non punibilità nel coordinamento fra reato presupposto e reato di riciclaggio? Ma il riferimento più banale soprattutto più attuale è alla nuova e alla recente riapertura della Voluntary Disclosure è una causa di non punibilità. Voi capite bene che se opera una causa di non punibilità sul reato prodromico presupposto di evasione quindi fiscale il successivo occultamento o spostamento in un'ottica di riciclaggio di queste evasioni rilevano comunque quindi penalmente perché c'è l'articolo 170 del codice penale sulla intrasmissibilità delle cause di non punibilità che gravano sul reato fiscale e su quello extrafiscale. Ovviamente se questo condotto di occultamento di trasferimento e di impiego delle utilità evasi avviene prima del verificarsi di una causa di non punibilità anche l'autoriciclaggio e il riciclaggio non rileveranno mai quindi penalmente nella misura in cui si sono spiegate cronologicamente in un momento storico in cui ha operato una causa di non punibilità sul reato quindi presupposto. Quindi ritornando al tema del nuovo rientro dei capitali che è in scadenza alla fine di questo mese e alla fine di luglio, cosa possiamo dire? Che tutte le attività di trasferimento di asset, di patrimoni quindi dall'estero sono state fatte dai bankers e dai fiduciari se non c'era quella causa di non punibilità non solo sul reato fiscale ma anche sul reato extrafiscale prevista nell'ambito della volontà di discorso ovviamente anche questi bankers e questi fiduciari unitamente in qualche modo i consulenti che hanno messo le mani e gli occhi su questi capitali rispondevano del reato quindi extrafiscale. Il legislatore proprio per favorire queste operazioni di riallocazioni che sono serventi il nuovo rientro di capitali ha stabilito una generale depenalizzazione non solo del reato fiscale ma anche di tutti i reati extrafiscali di autoriciclaggio e di riciclaggio in qualche modo che operano cronologicamente prima del verificarsi della causa di non punibilità che appunto si manifesta solo con la chiusura della procedura da nuovo rientro di capitali. In altri termini quindi nell'ambito del nuovo rientro qui dei capitali tutti devono stare sereni nel senso che la partecipazione collettiva e multilaterale di tutti a questa operazione macro di bonifica dei patrimoni saranno tutelati sul piano penale nel senso che nessuno e alludo ovviamente sia i bankers sia i fiduciari e ripeto anche i consulenti risponderanno di reato di autoriciclaggio e di riciclaggio sullo spostamento di queste somme e ripeto che sono a servizio del nuovo rientro dei capitali.